Facciamo tigelle, gnocco, piedine, hamburger, cheeseburger, hot dog. Guardando la stagione non va male, solo che con la faccenda del covid la gente ha paura. Non è un fatto di tapparsi il naso nel approcciarsi con Conte. Però speriamo il suo futuro, dai, cerchiamo piano piano di andare verso la strada giusta. È benvenuto alla festa. Mi pare che sia venuto nella casa giusta. Questa è la sua casa. Ci stiamo amalgamando sempre più, stiamo affinando le conoscenze, iniziamo a lavorare sempre meglio. Io credo che da esperienze positive che si consolidano negli anni possano nascere delle prospettive politiche anche più durature. Fino adesso ha fatto delle cose straordinarie. Lo incoraggio ad andare avanti. Direi che ora come ora sia il migliore, al di là delle idee politiche. Non è facile governare una barca che sta affondando. Se sarà sì, ci serve il MES, l'ho detto pubblicamente, andremo in Parlamento, discuteremo pubblicamente nella sede opportuna, nel luogo opportuno e in tutta franchezza porterò anche, proporrò una soluzione nel dibattito parlamentare. Alla luce di quelle che sono i regolamenti del MES, li esamineremo insieme, pubblicamente, in modo traspretto. Io spererei che riesca a tenere il botto ancora un po' perché per me ha lavorato bene nel periodo del lockdown. Si è dimostrato superiore all'aspettativa, mi avviso. Piace uno che piace. Estima, elegante, intelligente, non è aggressivo, ha tante qualità. Siamo soci, alla fine siamo soci.